I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione a un provvedimento di sequestro e contestuale confisca, emesso dal Tribunale di Palmi su proposta della Procura della Repubblica, avente ad oggetto un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di quasi 400.000 euro. Il provvedimento scaturisce da accertamenti economico-patrimoniali eseguiti da militari della Compagnia di Taormina, nei confronti di un pluri pregiudicato messinese, che ha subito condanne per i reati di rapina, detenzione illegale di armi, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, il destinatario del provvedimento, è stato coinvolto in una pluralità di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palmi, da cui è emersa la costante tendenza a commettere reati e a vivere dei proventi dell'attività illecita. L'attività investigativa è stata orientata alla ricostruzione del patrimonio riconducibile al suo intero nucleo familiare, riscontrando la disponibilità in provincia di Messina di sei immobili, due autovetture e disponibilità finanziarie, acquistati con i proventi dell'attività illecita, per l'importo complessivo di 372.219 euro e 68 centesimi. Oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore delle persone con bisogno di sostegno intensivo per il mese di ottobre 2024. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha impegnato la somma a valere sul Fondo regionale per la disabilità. Anche per il mese di ottobre, dice l'assessore Nuccia Albano, gli uffici hanno provveduto alla puntuale erogazione mensile dei contributi. Continuiamo a garantire a queste persone e ai loro nuclei familiari la continuità degli interventi e dell'assistenza. Le risorse, come sempre, saranno destinate a tutte le ASP dell'isola sulla base della comunicazione del numero delle persone con necessità di sostegno molto elevato. I soggetti censiti al mese di maggio risultano quasi 15.000. I carabinieri della stazione di Calatabiano con il supporto dei militari dello squadrone Eliportato Cacciatori, Sicilia, e del nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP, del Tribunale di Catania, nei confronti dei seguenti soggetti. Strangi Giuseppa Manuela, 36enne di Taormina, con precedenti di polizia, destinataria di custodia cautelare in carcere, Brando Palmina, 36enne di Giarre, pregiudicata, destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari, Raneri Melania, 35enne di Taormina, pregiudicata, destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari. Altri due uomini, rispettivamente di 30 e 40 anni, sempre di Calatabiano, sono stati invece sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vicenda dalla quale trae origine l'emissione della misura cautelare, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con gli indagati, avrebbe avuto inizio lo scorso 16 giugno 2023 allorché, gli stessi, al fine di recuperare il credito maturato dalla cessione e conseguente mancato pagamento di dosi di cocaina, avrebbero sequestrato e malmenato una quarantenne di Taormina per costringerla a pagare i debiti. In particolare, Brando, Raneri ed il trentenne, dopo aver atteso l'arrivo della vittima sotto la sua abitazione, in un noto residence di Taormina, l'avrebbero, subito bloccata al suo arrivo, costringendola a seguirli presso la loro abitazione, a Calatabiano, dove vi era ad attenderli sulla strada, la strangi e il quarantenne. Dentro l'abitazione, la donna sarebbe stata, quindi, picchiata e minacciata di morte se non avesse saldato il debito di droga ammontante a circa 2000 euro. La quarantenne, successivamente, sarebbe stata poi liberata, dopo qualche ora, per intercessione di altro indagato, non destinatario dell'odierna misura cautelare, che avrebbe convinto i sodali a concederle una dilazione di pagamento. Questa procura distrettuale, sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, ha quindi richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'emissione dell'odierna misura cautelare a carico degli indagati accusati a vario titolo di detenzione e i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestro di persona a scopo d'estorsione. Tentata estorsione e lesioni personali, reati aggravati, tra l'altro, per aver commesso il fatto in più persone riunite e in orario notturno. Nella zona della foce del fiume Salso, in territorio di Licata, Agrigento, sono stati avviati i lavori che si sono resi necessari dopo le alluvioni e le mareggiate del 19 e 20 ottobre. In quell'area, infatti, si è verificata una forte erosione della costa che mette in pericolo il vicino depuratore di acque reflui di contrada ripellino. Il rischio è quello di disastro ambientale, qualora il dissesto idrogeologico dovesse causare il blocco delle attività dell'impianto obbligando allo sversamento in mare dei liquami non trattati. Con questo di Licata, dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani, abbiamo avviato cinque degli interventi previsti dallo stato di emergenza regionale deliberato dal mio governo. Sono state individuate velocemente le maggiori criticità e abbiamo fatto partire subito i lavori. E presto prenderanno il via anche quelli da effettuare nella città di Catania. Si tratta di territori che avevano bisogno di risposte immediate dopo gli ingenti danni causati dal maltempo e la regione è stata pronta ad andare incontro a queste esigenze con azioni concrete. Nello specifico, per mettere in sicurezza l'area di sbocco a mare del Salso sono stati stanziati 700.000 euro. È prevista la realizzazione di una scogliera di argine con massi naturali posizionati per garantire un'adeguata protezione della costa e dell'impianto di depurazione. Inoltre, verranno rimossi i detriti che la piena del fiume ha depositato nella foce. I lavori, che sono iniziati martedì 5 novembre e si protrarranno per 120 giorni. In totale, per i cinque interventi, oltre a comunicata sono partiti quelli a Stromboli, Ginostra, Enna e Assoro, il governo Schifani ha stanziato 2,8 milioni di euro. Uve sane e di qualità nonostante la siccità abbia messo a dura prova la vendemmia siciliana appena conclusa. Chiude con un calo medio di circa il 20% la vendemmia 2024 dell'Isola, la più lunga d'Italia, 100 giorni di raccolto da ovest a est, caratterizzata dalla siccità ma anche dall'innovazione e capacità dei vitivinicoltori nel dare risposte efficaci e nell'adottare tecniche agronomiche in grado di governare la crisi idrica. Una vendemmia che sarà ricordata, se non per la quantità, per l'eccellenza qualitativa, per la resilienza di alcuni vitigni autoctoni e alloctoni e per la straordinaria varietà che contraddistingue la vitivinicoltura siciliana. I vini prodotti da questa vendemmia 2024 riflettono la diversità dei territori siciliani, dai vini rossi dal profilo organolettico complesso, con una notevole capacità di invecchiamento, ai rossi dove l'altitudine o le caratteristiche del suolo esaltano freschezza e acidità, fino ai bianchi di quest'annata che si preannunciano persistenti, aromatici e di qualità. La Sicilia del vino, commenta la presidente di Assovini Sicilia, Mariangela Cambria, dimostra capacità di gestione anche nelle criticità, come l'attuale difficoltà dovuta alle limitate risorse idriche. La vitivinicoltura siciliana è capace di rinnovarsi nel segno della qualità, innovazione e nel rispetto del vino territorio. Iniziata a metà luglio negli areali della Sicilia occidentale, con oltre 15 giorni di anticipo, la vendemmia si è chiusa in questi giorni nei territori dell'Etna. Positivo il bilancio dei presidenti dei consorzi DOC e DOCG che, nonostante la siccità e il calo della quantità, confermano la qualità della produzione vinicola siciliana. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 7 novembre di Globus Television. Giovedì, pressione in calo. Regione con maltempo. Possibilità di piogge alternate a temporane e schiarite su gran parte delle province sui settori meridionali probabili temporali localmente intensi. Temperature massime in aumento fino a 21 gradi.